La faccia come i cani, ragazzi, zi, 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 nessuno mi ha chiesto niente Oh, quindi, si taglia i capezzoli Buonasera, 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 ragazzi, c'è la finestra aperta Frega niente, sto morendo di caldo No, stasera, no, no Stasera la vicina monca O Perché c'è caldo, non me frega un cazzo, sto morendo Non posso morire per colpa sua Quindi, i vicini che fissano monca, è di dobu Quindi, buonasera Buonasera, sfrattato Sfrattato, hiperlul Buonasera, quindi, buonasera, 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 buonasera Buonasera a tutti, ragazzi Questa è la stranata dell'anno lordo Clap, 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 clap Negli occhi Esatto Negli occhi non faccio la voce strana di Marco Nero quando dico negli occhi per il semplice fatto che ho un leggero fastidino alla gola e quindi se non la gratto è meglio devo prendere le caramelline per la gola mi puoi spiegare la questione di Trashman Tandy perché lo prendono per il culo giusto leggero clap quindi niente allora quindi buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti di fatto c'ho anche la maglia la manica sinistra che è completamente bagnata è per quello che la tengo così anche su perché è fradice quindi tipo mi sto ammalando perché sono bagnato proprio però c'è ragazzi la vita va vissuta una maglietta bagnata alla volta non c'è fine maglia non c'è peggio al fine quindi nel senso le cose vengono un po' come vanno e al ritroso torneranno quindi non c'è bisogno di fare grandi polemiche o discorsi stare a fare grandi così escursus sul perché le certe cose siano in un certo modo si accetta buonasera a te e a tutti si fa così e basta giordi come stai? ci? si tira su le braccia feels weird man ok Luca non parlavo delle braccia volevo dire le braccia le maniche delle braccia mi tiro su le braccia le maniche non mi tiro su le braccia le cose prendono il percorso ma si ritorneranno in un certo senso quindi monca s quindi ddv a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti attenzione attenzione a cosa vedo ma sbaglio o là in fondo alla stanza vedo qualcuno che conosciamo attenzione ti do un consiglio su come battere Gianni e Pinotto cosa? usa o no titio e risolverai tutto non ho sentito ora ora leggo però perché vedo là che sta accadendo un qualcosa mi scusi mi scusi mi scusi signora ancora ancora Massimiliano ancora seriamente lo continua a far venire in questo palco nonostante ci sia il cartello fuori nonostante questo gliene frega niente non gliene frega niente c'è il cartello fuori c'è la foto di suo figlio fatto una merda suo figlio fa schifo suo figlio è brutto come la merda che ho fatto stamattina c'è la foto ok con scritto io non posso entrare come i cani come le maledette bestie e lei lo continua a far entrare e guardi cosa fa guardi cosa sta facendo sta di nuovo cagando dentro i go-kart di nuovo è la quarta volta solo quest'anno l'anno scorso quante volte ho dovuto richiamare Massimiliano quante volte signora non può fare come vuole lei non può c'è un cartello non può fare ma non me ne frega niente che lei è la moglie del sindaco non me ne frega niente no ma non è non importa le regole in ogni luogo vanno vanno rispettate non è che solo perché lei ha una posizione preminente politica allora no ma lo chiami va bene lo faccia ah ecco appunto la prossima volta semmai e se lo porti via che fa schifo puzza e fa schifo il figlio più brutto è una merda proprio non ho mai visto un bambino così brutto vada via grazie e non to non levi quel non mi faccia ma perché c'è la mia maglietta pallottolata in cima a una montagna di roba sul letto danzga a me k buonasera ragazzi buonasera ragazzi buonasera buonasera ma quando arriva Massimiliano bisogna fermarlo quando arriva Massimiliano bisogna fermarlo perché morde i bambini e caga nelle macchinine quindi ogni volta bisogna partire un attimo con con l'autoscontri come state oggi io discreta sono custode sono custode degli autoscontri e quindi e quindi e quindi vuol dire che Massimiliano è grasso se l'odio non è vero sta meme dell'odiere i grassi ok stavo aspettando che finissi di parlare se no non posso aprire streamlab si streamlabs perché il cruscotto perché se no mi blocca Carla e poi vengo danzgamato quindi buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti e allora ragazzi questa sera robò di nuovo sicuramente e allora ragazzi questo non è vero allora ragazzi io vi banno uno a uno uno a uno ragazzi insomma quello che vi volevo dire è cosa faremo questa sera questa sera come al solito recap delle bizzate recap di reddit e poi finiremo ovviamente ci manca circa un'ora e mezza ma soprattutto faremo Anor Lordo tutto tutto Anor Londo la scorsa volta avevo promesso che aveva che avrei fatto e finito nella stessa live la fortezza di Sam ed è stata una passeggiata una passeggiata di salute quindi questa sera Anor Lordo sarà fatto assolutamente tutto quindi le scale le cose tutto quindi si va si va quindi Brian grazie per il follow e poi abbiamo Ilaria che dice ancora sta canzone canta grazie a Feriviz Mandux ma buonasera ma le canzioni di Fallout allora perché perché prima di mettermi a giocare a le cose a Dark Souls 3 ho fatto sono sempre bloccato le fottute sentinelle quelle lì allo stesso boss ho fatto allora su Dark Souls 3 allora ora vi do cosa ho fatto aspettate che ho aperto una pagina segretissima non è verità ho aperto la pagina sbagliata allora di Streamlabs allora vi dico su Dark Souls Remastered abbiamo 12 ore su Dark Souls 3 ho 13 ore ok oggi ad esempio ho passato tutto il giorno oggi ci avrò giocato chiedo 4 ore mi faccio veramente schifo ho fatto qualunque cosa oggi ho trovato un sacco di aree di diverse perché mi sono accorto che non dovevo andare solamente ho scoperto che è tipo da Dark Souls 1 ho scoperto cioè avete tante vie solo che non me le ero data io pensavo si dovesse andare solo lì dalle sentinelle infatti mi ero bloccato invece ho fatto un bordello di altri boss le ho uccisi ora ho finito ogni altro posto sono bloccato lì dalle sentinelle e non riesco a ucciderle perché sono in 3 perché è una poi si aggiungono le altre chi conosce il gioco lo sa cosa giochi senza di noi ma non è un let's play di live è un let's play futuro non c'entra è un conto se gioco a Dark Souls 1 le sentinelle non so come si chiamano le guardie come cazzo si chiamano quelle del sentiero degli ignoranti minchia come si chiamano quelle vicine alla fortezza del lupo come si chiamano come si chiamano minchia Dark Souls tre boss tanto qualcuno lo scrive non c'è sicuro solo che io non ve lo rischio dire perché non lo ricordo i guardiani dell'abisso i guardiani dell'abisso loro non riesco a uccidere i guardiani dell'abisso non ci riesco sono a livello tipo 60 già sto farmando ho le armi già più 15 e ho le braci ho 80 braci sono OP come la merda sciotto qualunque cosa e non riesco a uccidere questi fottuti guardiani non ci riesco non ci riesco perché quando li uccidete che lui rinasce e diventa di fuoco tipo è troppo forte è troppo forte è troppo veloce io sono in fat roll ovviamente o perché ho la build super tank e non riesco a fare niente comunque poi lo porteremo in live poi lo porteremo in live ma lo sto giocando fuori live per il semplice fatto che lo sto giocando per conto mio i giochi delle live fuori live non li tocco quindi Dark Souls 1 e Nine Clues The World vabbè quello del manicomio non li tocco fuori live quelli sono solo delle live io parlo questa roba è fuori live quindi non c'entra no scherzo no non sono in fat roll sono in mid sono in mid mi artellano tra il mid e il fast fat non ci sono arrivato perché comunque il 3 noto che è una bella combinazione fra Dark Souls 2 e Bloodborne è una cosa fantastica è molto veloce inoltre puoi farli combattere tra loro e infine in DS3 il tank è una merda perché non c'è l'equilibrio infatti mi sono sbagliato sono abbastanza agile solo che comunque gioco tipo Dark Souls 1 comunque mi baso molto di più su fare tanto danno che tante schivate per ucciderli in fretta comunque sì mi sono reso conto che li riesco infatti a far combattere tra di loro ma non riesco a uccidere quello che nasce dopo quello di fuoco diciamo non lo riesco a uccidere quello è un bel misto fra Bloodborne e Dark Souls 2 Dark Souls 2 lo amo Bloodborne mi fa schifo uniti insieme hanno creato questa cosa fantastica ci sta troppo perché è Dark Souls 2 ma con la velocità di Bloodborne però è Dark Souls quindi è fantastico è bellice sono lì che mi seguo e non riesco a giocare non mi piace Bloodborne non mi piace non mi piace basta e non mi piace neanche Nioh volevo giocare Nioh ma non mi piace la roba giapponese non mi piace la roba giapponese Nioh è tutto Weaboo quindi proprio a me non piace per uccidere quello di fuoco hai provato con l'acqua devo provare con un secchiello d'acqua Weaboo di Ddobu di Tino porta esatto Ddobu esatto però che ogni volta che si accenna anche solo che si accenna al Giappone o ai Weaboo parte lo spam di Ddobu gigantesco comunque quindi andando con ordine mi era perso qualcuno? no mi son perso poi si segua mentre gioca e poi si lamenta di non riuscire a battere le sentinelle e mi sono messo giocare a New Vegas per poi abbandonarlo perché mi sono accorto che non lo fa per me però le canzoni erano bellissime quindi me le sono scaricate tutte su Spotify e questa è una delle più belle in assoluto fap clap fap clap grazie Sunderland false mi puoi spiegare la questione di track sui tendi perché ho pieno per il culo perché è un yes man di merda esattamente come gli altri è cringe e sfac con le ragazze tenta di fare come Ice ma non ci riesce tutto qua poi se vuoi ne parliamo meglio in privato comunque i motivi sono questi sta cercando di essere una coppia fatta davvero male di Ice Tommy buonasera a te a tutti giochi come stai niaghi niaghi tutto bene Tommy grazie mille grazie mille spero anche te spero anche voi a parte appunto un leggero fastidino alla gola ti do un consiglio su come battere Gianni Pinotto usa un 8 e risolverai tutto allora ragazzi la storia dell'8 qua proprio discount Ice la storia dell'8 qua proprio sta andando fuori controllo allora come si dice dido bagnato dido per metà stuprato ci sta se squirt si se sperma pure in ogni caso quindi va bene è una win win situation perché c'è la mia maglietta pallotolata in cima a una montagna di roba sul letto dance game perché no perché no scusa è così che tengo la roba io in che senso crotolo grazie per i 10 beats buonasera amici buonasera amici come parli buonasera come state oggi Brent grazie mille Brent arriva oggi io discretamente domani mi devo svegliere presto per le prove un cuscino quindi mi sa che stasera non resto fino alla fine notizia poco importante se tutto va bene la prossima settimana termino il capitolo di The Virus come ospite speciale la nostra Ilaria grande crotolo grande crotolo invece no non è una notizia poco importante anzi quindi mi spiace che stai discretamente spero tu sti al meglio domani dopo le prove buone prove domani e grazie per The Virus farlo solo se ce la fai tranquilla non c'è fretta e grazie mille finché Eclon grazie per la sub finché Eclon no grazie mille finché Eclon grazie mille davvero di cuore grazie mille grazie mille Non ho un account di Twitch Se sparo un po' a tutti Fai la voce di YouTube Ok Tutti a terra Ratatatatatata Ciao bimbi Com'è Chiamatemi Nuat Ok Nuat è sicuramente Più comodo e veloce Di non ho un account di Twitch Quindi grazie Nuat Grazie Caro followers Grazie Se siete Un po' Corpulenti Chiedete Altri saponi Finchè Klon Grazie per gli otto mesi Anche te Grazie mille Buonasera di Dino Manco un mese Ed esco dalla tua uretra Di Dovù Esattamente Finchè Klon Grazie mille Grazie Finchè Klon Per gli otto mesi Grazie mille Arriba intornato Nell'autisticarmi E grazie per questi otto mesi Grazie mille Arriba intornato E grazie per avermi riscelto Con Prime Etusa Grazie per il follow Credo si legga Etusa Perché A-E Credo sia un latinismo Ricchi Ti consiglio di combattere La forza di pari Questa qua l'avevo letto Si segue mentre gioca E poi si aumenta Di non riuscire a battere Allora Crotalo Io gioco come voglio Intanto C'ho il Chubilip Posso Uso Gioco a Dark Souls Col Chubilip Ok E Brent Grazie per la sub Grazie mille Grazie mille Per avermi scelto Con Prime Grazie di cuore E benvenuto Nell'autisticarmi Grazie mille E ora ragazzi È giunta l'ora Cosa ho fatto Yes I've got Ok Ah è giusto Ok Yes I've got Troubles By the numbers Troubles By the score Everyday you love me less Each day I love you more Cause I've got trouble By the numbers And all that I can win But the day when I start counting That's the day my war will end Sembro Sa un po' di cosa Quei giocattolini Di Natale Che gli tirate la cordicella E cantano Sembro quelli Sembro quelli What you said Hyperbra Non ho detto niente Antonio Non ho detto niente Oh Quando è parto Reddit No davvero Mi si è robotizzata la voce Quando è parto Reddit Dio l'odio Allora Si va Ragazzi poi non vi stupite Ma dice Confucio Un ognuno non dovrebbe Libero di fare stufa Orgasmi potenti Vedrete vedrete Sembra il pesce Che si mette a cantare Si esatto Il famoso pesce Esatto Eh Jebaited Jebaited Odia Dio Hyperlul Ciao Mario Ciao anche a te Stefano Allodora Ognuno gioca come vuole Ma dice Confucio Un ognuno non dovrebbe Libero di fare schifa Evil Morty Team Quindi taci È giusto Crotoli È giusto Aiuto Stile Stile Goblin Non paga per le fotocopie È l'uomo più ricco di Genova Xanax dipendente Usa i bug per vincere Su Dark Souls Porno dipendente A maledette piccole Viene sui ragni Ditto gioco Content King Thread Oddio Oddio Allora Questa A parte L'incredibile Monca Mega Clap Per Per essere riuscito A rendermi Veramente Il Goblin Questo È uno stile Di meme Che io amo Alla follia Forse Attualmente Tanto la salvo Questa Forse attualmente Ora come ora È la meme No ma io non volevo Stavare l'immagine Orribile Io volevo Stavare il link Intero Ok Forse 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 è il tipo Di meme Che mi piace Di più In assoluto Quello con Le spunte Le scritte Le spunte Le scritte Le spunte Mi fa morire Ogni volta E viene usato In questa maniera Per sfottere qualcuno Oppure per descrivere qualcuno Tipo mettere Tante caratteristiche Di qualcuno Sfottendolo Con le spunte E poi in fondo Scrivere chi è Infatti in questo caso Ad esempio Di solito Viene scritto Che ne so Spunta Must be Di Dojo Ad esempio Questa meme Io la adoro Forse Non so come facevi A sapere Che a me Piacesse così tanto Questa meme Grazie forse Grazie forse Ecco tipo Quella che ha scritto Ma quando l'ha riscoperta Di tutti i quality memes Salvati No job No girlfriend No friends No talents Wasting time On twitch Must be me Mi fa troppo rire Questa meme Io la amo Ma quando l'ha riscoperta Di tutti i quality memes Salvati Ragazzi Oggi Me li sono un po' Riscavati Me li sono Me li sono guardati Una quarantina Piangevo 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 Troppo ragazzi Bene Rifaccio vedere uno Tra po' Che mi ha fatto Piangere davvero troppo Sono più di 200 Me li sono guardati Una quarantina Ma fanno troppo ridere No ragazzi Non ci casco ora Per la X Perché me lo avete Già fatto due volte Nel giro di due minuti Non ci casco Love 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 Alza il volume La family Rimane sempre Il 90% Del mio cuore Allora È un audio vero È un audio vero Sono Sono io quello Cioè una conversazione Whatsapp Con Ilaria Ma perché questa voce Perché Con que Perché con questa voce Monc Monca È un audio vero Monca mega Comunque sì Stavamo parlando Fra l'altro in privato Io e Ilaria Non stavamo parlando Di Twitch solo che visto che vengo poco qui in live mi sono dimenticato di dirvelo mi sono fatto chiamare il nome di inglese non avevo questa voce nel vocale non so perché si senta veramente così male non so perché Satana sia sceso in terra e mi abbia un attimo doppiato così al volo non so perché i meandri dell'inferno si siano un attimo tutti incanalati nelle mie corde vocali non so perché si senta così comunque in un attimo me l'ha dato Rapa e Oni or sono solo che visto che ah non Rapa e Oni io avevo pensato pensavo che Rapa e Oni Rapa e Oni or sono fosse qualcuno cioè me l'ha dato Rapa e Opi or sono Rapa e Opi non ce la faccio non ce la posso fare Rapa e Opi Rapa e Oni or sono ok riprovo Nuat me l'ha dato si si Rapa e Oni or sono solo che visto che vengo poco in che senso mi sono dimenticato di dirvelo mi sono fatto chiamare con il nome di lunghezza pene e già che ci sono Nini Nilelele e lo spam vario va bene ok Rapa e Oni or sono ha fatto bene ha fatto bene 8 come sul livello di autismo su una scala di 5 perché io però non è una clip è un video su youtube ma anche io la amo 3rd never sub 3rd never donate 3rd block on 3rd free entertainment e vabbè best spam grazie forse perché il video l'ho registrato dal computer e non dal cell quindi l'audio è cambiato e hai la voce molto più bassa l'ul per chi non lo avesse sentito Joe dice la family rimane sempre il 90% del mio cuore sì e la cosa bella è che davvero stavo parlando di tutt'altro quindi davvero io stavo parlando d'altro e mi fa piacere vedere come potervi mostrare non era una cosa fatta preparata diciamo quindi mi fa piacere farvi vedere come parlo di voi a caso sempre anche in real life nella vita reale quindi grazie per aver condiviso questa cosa che fra l'altro non è di adesso di giorni fa mi sembra vediamo cosa è qui ho risposto 8 in quelle 20 righe 8 la risposta è stata 8 letteralmente 8 feels fucking weird man allora non l'ho fatto apposta lo sapete non l'ho fatto apposta 8 mega roll ecco eh sì quanti 8 in chat rivelazioni scioccanti in quel di messina sparviere vivo carlo vive no g7 fa fatto ho letto carlo vive gino no sto già sto avendo delle allucinazioni potentissime il primo del rischio è un incentivo che ti deve dare lo strumento finanziario il primo del rischio è ponderato secondo certe caratteristiche del patrimonio netto non sapeva che lo avrei messo è di qualche giorno fa però era così dolce che volevo condividerlo con la family minore di 3 dislessico as fuck grazie Ica questa qui è bellissima ho fatto questa mia faccia non l'ho ancora vista usata nelle meme quindi è nuova questa qui è nuova grazie mille sì John non sapeva niente non sapeva che l'avrei messo è di qualche giorno fa però era così dolce che volevo condividerlo con la family grazie ancora Ila grazie vediamo Chara che cosa ha messo yes I've got troubles by the number na 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 every day you love me minchia ma io mi son fidato poteva essere un video incredibile io mi son fidato sembro proprio quelli cosa? cosa tu hai detto? hyper joach non mi ha detto niente 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 quando hai aperto il reddit grazie mille grazie mille grazie mille cosa cosa? quando hai aperto il reddit Dio l'odio allora si va ognuno gioca su un'odio ma va a giocare un'odio dovrei essere libero di far parte di volvo morto non mi ha detto niente 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 si è lato è sconfondo vabbè sono sfondo c ci sono io che canto ciao maio ciao maio ma è bellissimo ok non me lo aspettavo grazie Ciara è bellissimo grazie mille è fantastico cos'è il premio di rischio un incentivo di un meme 8 grazie Fortuit il D2 è bellissimo non c'è che dire ma ragazzi nulla batte il Forsen è divino la prima volta che lo vedi ci esi per per lo so lo so lo so Rugdar non potrò mai competere col Forsen E è qualcosa di meraviglioso è qualcosa di incredibile non potrò mai competere lo so però nel nostro piccolo il D2U comunque un posticino nel nostro cuore ce l'ha non ho mai preteso di poter combattere qualcosa di titanico come il Forsen E quello non posso non posso grazie buona buonasera 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 ti chiedo per prima cosa di chiamarmi Michelle ok so che il mio nick è quello ma mi fa stanco vabbè Michelle tranquilla stranezze Forsen Boys stranezze mia a parte volevo ringraziare te e la family per ciò che fate per me ogni giorno passo delle giornate molto stancanti e stressanti o per la mia famiglia o per le mie fisse mentale molte stelle mi trovo a letto a piangere o fisse al soffitto con la tristezza che mi affoga però sapere che dopo ci sarà una tua live mi fa sentire meglio per questo vorrei ringraziarvi vorrei ringraziarvi per quelle enormi risate o anche solo piccoli sorrisi che mi fate venire fuori oppure per tenermi anche solo compagnia in un momento totalmente buio mi è capitata una volta di piangere durante una live per tutta la merda passata durante la giornata e adesso mi è addormentata poco dopo però mi sentivo come se non fossi sola mi sentivo come se mi fosse addormentata con tante persone accanto che mi capivano è una cosa bellissima grazie volevo anche scusarmi per il fatto che non riesco a vedere quasi mai una live per intero ciò succede più che altro nei periodi di scuola mi devo stare alle 6 la mattina e quindi arrivo la sera morta vabbè ma è normale anche in questo periodo non riesco a vedere le tue labi per intero perché sono in stage e tutto ciò mi uccide quindi quasi tutte le sere mi addormento col pc acceso e voi nelle cuffie però da una parte ciò mi fa sentire meno sola quando dormo che cosa dolce ma comunque mi fa sentire molto in colpa no non riuscire a vedere le tue labi per intero tutte le sere anche perché mi sono persa davvero tante cose e questo mi fa dispiacere un sacco vorrei anche scusarmi per il fatto di non commentare nel live o di non poterti donare niente ti banno per la prima volta è che sono un sacco timida quindi mi mette molto in soggezione ciò sto già facendo fatica a scrivere questo per la seconda è che non ho nemmeno 10 centesimi per comprarmi le caramelle quindi se puoi perdonami ma che sto ma cosa sono questi discorsi detto ciò volevo solo ringraziarti e ringraziarvi perché parla anche con voi per tutto quello che fate per me vi voglio un mondo di bene vi auguro tanti bellissimi unicorni colorati ho incominciato a agitare le braccia come fai tu e le persone con cui sto parlando che mi vedono mi guardano un po' male ma che si inculino se faccio parte di questa strana family ci sarà un motivo e farò questo gesto con orgoglio ancora per molto tempo giusto così Michelle a parte la parte finale che è stata simpatica il resto era molto dolce e triste quindi mi spiace tanto che tu sia così stanca che tu stia passando un periodo così davvero stancante e stressante ma come ci è passata tanta gente della family e l'ha passato e ora sta bene come ci sono passato io e adesso sto bene passerà anche a te e starei bene questa è l'unica certezza che si ha quindi grazie per cercare intanto che questo periodo passi conforto nelle nostre live nelle nostre cagate nelle nostre riesate nelle cazzate che noi facciamo Michelle grazie di cuore hai scritto qualcosa di bellissimo di davvero dolce di davvero che mi ha commosso se non l'avessi letto in live insieme a tutti voi ma lo avessi fatto per conto mio mi avrebbe commosso quindi davvero grazie Michelle grazie di cuore è davvero bellissimo quello che hai detto grazie davvero grazie e ora andiamo avanti e vediamo cos'altro accade con fortnite nessuno si sente solo da quando noi facciamo fortnite distribuendo di due aiuto perché tre video fra l'altro è arrivato no no aiuto arrestati oh no oh no oh no l'illegalità no c'è il titolo oh no denuncia incommi quanta delicadezza ovunque nelle casse alessandro alessandro ricky allora l'account si chiama ricky ma l'account lì sotto il nome dell'account su youtube era alessandro non so come chiamarti io io ti amo io non posso fare altro che sposarti che dichiarare il mio amore per te e vivere per sempre con te e darti tutto l'amore di cui sarò mai in grado di darti in qualità di uomo omosessuale quale io sono davvero è incredibile è bellissimo grazie è bellissimo il fatto che tu lo abbia fatto davvero è folle per me è qualcosa di incredibile è qualcosa di incredibile vedere vedere la gente che va in giro e va criminalizzare vandalizzare la città con la mia faccia di do è bellissimo grazie grazie davvero è stato fantastico grazie io aspetta che mi salvo il post aspetta che mi salvo il post perché questi video me li riguarderò all'infinito grazie davvero sei fantastico ok andiamo quando fai quiz e pensi alle live di ieri se l'avete capito leggete in commento meglio un otto in matematica un bacio della tua cotta o una pizza gratis otto ovviamente era otto che cosa vorremmo mai volere di più se non un otto educazione sensuale by Lido è la clip di ieri immagino della vaga non la chiamate ispirare la chiamatela tappo allora è come un tappo che blocca no il blossom ma è giù ma è vero ragazzi ma non si sa ma è uno strumento demoniaco che non esiste la vagina non la vagina la valvola basta la faccia se ti chiedo di fare una cosa se ti chiedo di fare una cosa tu la fai no perché se fai la live mi serve una clip non so ancora niente forse non so ancora niente perché io in teoria non vado lì per fare live però la voglio anche fare una per per stare un po' con voi perché 4 giorni 5 giorni cos'è sono tanti mi manchereste tanto e non voglio neanche lasciarvi per così tanto tempo senza live quindi non vado lì per quello e quindi non ho organizzato nulla e non ti so dire nulla però sicuramente qualcosa lo voglio fare però appunto ripeto dato che non vado lì per quello non ho organizzato nulla però non è un problema comunque farla perché starò lì davvero tanto tempo fino a giovedì pomeriggio quasi sera fino a giovedì sera starò lì quindi c'ho un botto di tempo in più ora Vodafone mi ha dato 30 giga quindi anche lì sto tranquillo dato che Tim me ne dava 10 tipo la faccia di Dido quando la family ha scoperto chi è questa ragazza di Roma non voglio licare questa ragazza io no 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 non credo no no non so non capisco non capisco ho altri impegni di Tobu non capisci è Otto la soluzione no è impossibile che venga Otto a questa equazione ma è sempre Otto scritto nelle sacre scritture del re non è matematico sei solo un pazzo ad andare contro il re e ora esci da qui maledetto eretico ce lo vedo è un film ce lo vedo io voglio il film voglio che voglio andare al cinema e trovare questa scena è bellissimo lo salvo subito che è lol universe complimenti bellissimo è bellissimo è fantastico Darsus è un titolo giapponese comunque l'unico contraccettivo funzionante è l'aborto scusate per il black humor hai per lui no say for work i ddv che partono mi fanno sempre morire quando parte lo spam di whips out ddv muoio sempre vediamo il no say for work no ma non è il no say for work cioè forse lo è però è scritto quindi posso farlo vedere no aspetta 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 non so che cosa ci sia scritto aspetta in effetti aspetta allora lo leggo un secondo ragazzi mi siete vicini scusa sul circo che ci ho provato e sicuramente potete vengare qui su dire no è sbagliato non ho fatto ma forse non ho pensato questa via no ok non posso è andato via è andato via il microfono adesso controllo è andato via maledetti ragazzi allora no non posso farlo vedere perché è una cosa cioè non perché per privacy ma perché twitch poi mi rompe i coglioni perché è guai parlare di cose serie twitch si caga addosso è meglio che le tipe facciano vedere le tette così che i moderatori di twitch si possono segare quando invece si parla di cose serie no non va bene balinsesto quello che è scritto è terribile è veramente pesante quello che è scritto però come faccio a risponderti nella maniera giusta chi l'ha letto sa di cosa stai parlando e può capire la mia difficoltà nel riuscire a risponderti nella maniera giusta e adeguata il punto è che la vedevo anch'io come te non così tragico lo ammetto non la vedevo come te non ero così disperato diciamo però la vedevo anch'io in un certo senso come la vedi tu e poi davvero adesso la vedo in maniera opposta ed è successo quasi da un giorno all'altro e non so come non so come dirtelo ma sembra davvero che sembro uno di quelli delle pubblicità che viene pagato per dirlo sembra davvero sembra davvero un cliché di merda perché effettivamente viene usata come cliché molte volte per questa frase ma davvero purtroppo anche se è un cliché però è vera questa cosa quindi te la devo dire anche se sembra un cliché non è vero quello che dici non ne vale la pena perché dopo migliora comunque dopo migliora sempre soprattutto per i discorsi che hai tu soprattutto per i discorsi che hai fatto tu in un qualche modo la situazione che hai può cambiare e cambierà prima o poi è impossibile che rimanga sempre uguale in ogni caso le uniche cose che non possono cambiare ora lo tolgo così posso ok le uniche cose che non possono cambiare e allora a quel punto io mi sentirei in difficoltà nel rispondere a quelle persone esempio sono le persone come che ne so a Dahlia Rose ok avete in mente quel fottuto tubero con gli occhi tutto deforme schifoso no ecco quel quel coso lì io a quel punto io esempio una persona del genere non saprei come dire queste cose ma te nel tuo caso e anche nel mio caso e anche nel caso di tutti noi che siamo fortunati le cose cambiano per forza solo in quake pensa davvero a Dahlia Rose o a quella a quella roba lì quella lì è per sempre così non può cambiare non può cambiare non può noi sì la nostra situazione la tua in questo caso la nostra intesa come noi comunque fortunati perché comunque siamo sani la nostra può cambiare quindi per quello ti dico palinsesto non la pensare in quel modo per quanto sia difficile perché per quanto possa suonare come un fottuto cliché davvero può esserci di meglio perché può cambiare non è non deve rimanere così per noi oh per sempre non ho capito di cosa parli mi sono proprio perso il riferimento tubero vabbè sì dai sembra una patata non so comunque capito palinsesto cerca di capire che cosa voglio dirti capisci anche ovviamente che sono in difficoltà nel risponderti perché era un ah Ivan in quel senso sì anche fra l'altro ma infatti in quel caso io dico e l'ho capito a mie spese in quel caso io dico non c'è speranza non può cambiare ad Alia Rose non può andarle meglio non può andarle meglio la vita quella lì cioè quella lì sembra davvero cioè quando Eddie fa la cacca ok e a lei non può andare meglio a noi sì noi siamo fortunati quindi per quello che dico e l'ho imparato le mie spese sbagliando io stesso sbagliando anche il modo io stesso di pensare che può andare meglio certo che può andare anche peggio non ho un account Twitch non mi ricordo il nickname breve scusami no out mi sembra però può anche andare meglio può anche andare peggio ma può anche andare meglio può andare in entrambi i modi in ogni caso non rimane uguale quello è il punto per certa gente potrà sempre rimanere uguale per noi no che sia peggio o meglio però se può essere peggio può anche essere meglio comunque non rimane uguale è quello il punto non riesco a spiegarlo ma è quello il punto e comunque l'unico contraccettivo funzionante è l'aborto Twitch scusami io l'ho letto non sapevo cosa c'era scritto Twitch staff please moncatos forse io mi sono fidato l'ho letto tutto sparato l'ho gridato tipo l'ho tipo gridato mi sono fidato tantissimo Twitch staff please lo sono leo ho solo no not like this Ricky se pensi di aver raggiunto il fondo vuol dire che posso andare meglio fra l'altro fra l'altro esatto Renny grazie per il follow gridato tipo dalla finestra a bordo test da quanto tempo vediamo in effetti un test ci mancava conosci il corpo maschile aspetta ok non si vedono controllo ma ci sono numeri di telefono ci sono si poi partono i callers però qua cos'è sta roba ma ci sono dei numeri vabbè chi se ne frega partono i callers adesso le denunce incredibili molti stereotipi pregiudizi relativi alla costituzione e alle prestazioni del corpo maschile vuoi provare a vedere le tue conoscenze sono corrette ma come parla parla peggio di me ok fallo con questo test in che senso fallo va bene va bene swatted e si perché vedete qui ve li faccio vedere qui vedi qui ai lati Giuliana Proietti e sbam il cellulare proprio cazzo dottor Walter la gatta la pussy sbam il cellulare terapie sessuali ipnosi attacchi di panico insomma sinonimi oserei dire ecco chiamati in live subito c'è relazione fra le dimensioni del naso di un uomo e il suo pene oh mio dio ma queste cose sono reali fammi guardare il mio naso io ho il naso piccolo quindi no un naso no un pene di grossa dimensioni indica maggiore potenza sessuale secondo me no come no perché allora bisogna indicare cosa si intende con potenza Walter de pussy hyperlun però maggiore potenza cioè nel senso vabbè se è enorme ce lo sfatti dentro con forza le fai fare due metri è ovvio che hai potenza però nel senso puoi anche essere uno che va come un treno è lì ma se hai il naso di ai sai per lull ma se hai il naso di ai e in quel caso ce l'hai enorme la sutura ossea del corpo maschile in genere è più resistente di quella femminile vado per stereotipo credo di sì possono esservi emissioni di liquido seminale anche al di fuori della masturba sì un'eiculazione non lo so per esperienza no non è vero sono quasi certo perché dovrebbe essere una cosa normale si chiama non è tipo il grull delle donne il grull si chiama grull in inglese una cosa di cui ci sono anche i porno se cercate grull porn video lo trovate dovrebbe essere quella roba quindi credo di sì cioè tipo le discharge una una eiaculazione dottor la gatta mi dia una mano invece di accarezzarsi devo smettere di fare battute sul nome di quell'uomo report moncatoso allora no grull è scritto con due o ma non c'è ma non devo insegnare queste cose una eiaculazione contiene meno di mille falsissimo è sicuramente non una delle mie a proposito ieri sono state dette una marea di minchiate sulla pillola non fate cattiva informazione se non sapete le cose ci sono persone anche piccole d'età che seguono questo canale che magari devono ancora informarsi su certi argomenti e scrivere delle cavolate sull'argomento la mia contiene anche degli opinioni esatto non lo so per esperienza per ciò che ha detto Iri mi pare rugdar sulla pillola allora io non posso essere d'accordo né con Iri né con rugdar perché non so io non sono io che assumo roba è eventuale lei quindi nel senso io come uomo non mi sono mai posto la domanda qualunque partner io abbia mai avuto ha sempre preso la pillola quindi io non mi sono mai posto la domanda una volta ho visto un video nel quale un tipo ha sborrato senza essersi segato e vi lascio combattere quanto volete voglio vedere l'ultimo che rimane vivo perché questo è Fortnite ed è una battle royale non lo so per esperienza che schifo fatti curare dal dal dottor De Pussi grazie crotalo nuovo mio fetiche grulla hyperlull ma non lo conoscevi forse guarda che è una cosa che davvero poeti poeti infeticisti davvero vattene a guardare una volta ho visto un video nel quale un tipo ha sborrato senza essersi segato ecco quello già però è strano Manu essere magari sull'autobus e che ti succede è strano la soluzione la soluzione è l'anal è possibile una folia no un'elecruzione continuamente ok è possibile una folia di urina quando il penne è in erezione sì immagino cioè è difficilissimo ci ho provato ma ci ho provato a pisciare mentre così marmoreo è difficilissimo però non credo sia impossibile la prostata ha un'importante funzione di produzione di liquido seminale non lo so questo è medicina pura falso il pomo di Adamo regola la sessuale ma non credo la voce femminile è particolarmente stancante per cervello maschile le bestie eccole dottor la Pussi lo confermi anche lei dottor Pussi lo dica lo dica le bestie sì è vero il test di Galeno il test scritto la domanda novela la scritta Galeno chiaramente e ora guardo le risposte corrette ah in subito il test se ne date almeno 5 sono 9 grazie al cazzo la prima falso EZ la seconda falso EZ tutto so la terza vero EZ no ma mi si è aggiornato no perché mi si è aggiornato perché mi si sono tolte minchia le avevo fatte giù allora le prime tre le ho fatte giuste minchia le devo rifare possono esservi vero un'elocuzione contiene meno di mille falso è possibile una fuoriuscita quando il pieno è vero la portata in pratica funzione l'avevo messo falso il pomo di Adamo l'avevo messo falso la voce femminile è vero ok quindi dalla quarta la quarta devo guardare no dalla sì no la terza l'avevo vista quindi tre giuste finora dalla quarta la quarta è vera EZ 5 falso mamma mia 6 falso no la prossima fuoriuscita di urina quando ah impossibile scusami allora io come ho fatto allora a me che cosa è uscito di giallo vabbè 7 vero cazzo 8 falso ok e 9 vero ne ho sbagliate 2 su 9 ma com'è impossibile ma non vuol dire niente guarda scusa quando il peno è retto le emissioni di urina nell'ureta non è possibile a causa della chiusura del sistema muscolare posto travescica ma non è vero secondo me non è vero è impossibile cioè allora cosa c'hai anche noi abbiamo come a ieri le marmite che ci imbloccano le cose come le donne che ci hanno l'affare il cavatappi come si chiama dottor Walter Lapussi è vietata la riproduzione di questo test ma come ma che cosa vuol dire canzone per inizio ma no non credo che con riproduzione intenda che non si possa far vedere credo intenda dire che non potete prenderlo e farlo vedere e spacciarlo per vostro nel vostro sito credo sapete ho giocato i zombie di Black Ops 2 ma non me la ricordo proprio ammetto che non me la ricordo qual è il premio del rischio 8 that's 8 doors qual è il premio per il rischio ma ovviamente 8 fermate tutto è quella giusta chiaramente il premio per il rischio nel caso dei titoli azionari adatto dalla differenza tra il rendimento di un titolo il portafoglio il tasso di interesse è privo di rischio la letteratura teorica dell'economia finanziaria utilizzi il termine equity premium con riferimento al premio per il rischio dei titoli azionari che cazzo è 8 è il futuro esatto brava ila brava io studio su culo prendo 18 lui risponde 8 e prende 30 l'autismo vince sempre gli 8 in chat ciao poi mi dicevo dito questa sera quando scadrà mezzanotte vero ufficialmente 14 vostro ringrazio per quello che fai per noi grazie mille Luca grazie mille gentilissimo sono contento per te quindi fra un'ora Luca spero di ricordarmelo fra un'ora ti farò gli auguri spero di ricordarmi di farteli in tempo così da da farti gli auguri in diretta live benvenuti ragazzi all'esami di economia degli intermediari finanziari signor Pasqualo ha già sbagliato posto eh sì dato che l'ho chiamata le faccio una domanda essendo il credito il core business della banca ragione per cui quest'ultima deve valutare l'assolvibilità dei debitori qual è il costo del rischio 8 a plus a plus a più a più a più su tutta la mia faccia ebbene sì grazie Rugdar grazie Rugdar infatti è bellissima questa cosa signor Pasqualo ha già sbagliato posto cioè proprio parte male proprio eh sì il modo in cui gli ho detto è sì è stato bellissimo world contest è contest dell'uomo più forte dico che le live sono nel mio lavoro attualmente sì Ivan taci attualmente sì non fiatare madonna Ivan ti banno quella sinistra è la mia nuca fai schiena grazie Ivan ti voglio bene anche io grazie Ivan grazie praise the sun va bene ready the weekend 2 ho fatto delle indagini nessuno dei oh mio dio nessuno dei follower di did the join su instagram ha il verificato lo di come hai fatto a vedere che nessuno dei follower ne ho 5.000 è anche vero però che può essere che la suddetta ragazzi di Roma non segue a Giordi per non renderlo ancora pubblico o rifaccia una domanda il nome inizia per P no ho già detto mi sono ricordato che lo abbiamo già scoperto ma sono così sì lo avete già fra l'altro aspetto questa è un'alternativa col 173% di anni di possibilità come si chiama la tipa reale porca merda monca mega andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti l'amore è l'amore senza razza senza età senza religione 1036 è la mia faccia felice ovviamente oh c'è un no say for work leak ed esfa che comunque stavolta è stato leakato davvero male stavolta è stato leakato il nome per intero proprio no meno male che non l'ho aperta questa cosa oh caro autistico bel pezzo di manzo il nostro autismo per te non finirà mai restare eternamente fedele alla tua sborra sputa e domina Roma suicide girl as fuck sì si scopando l'ignota ragazza e noi non chiederemo altro che tu faccia una live IRLE mentre la o che cosa sto leggendo ragazzi no così sbagliato tutto questo è tutto così fuori controllo poverina no ragazzi lasciatela fuori è tutto così sbagliato è tutto così sbagliato comunque non posso farlo vedere perché ci sono immagini naziste in tutto questo non posso farlo vedere breaky famo scusate forse sto un po' rompendo il blossom con ste migali però devo fare rompendo il blossom e e si dai per quello Mauro c'ho paura di raid o delle cagate degli opinioni enigmatici tu la prenderesti veramente da un sito dopo il rischio che venga spedita male quindi si rompa la zampa o arrivi addirittura morta no perché io arrivo a fare qualsiasi cosa no perché i siti sono alcuni siti sono appositi cioè sono proprio fatti apposta per vendere queste cose sono appositi che sono specializzati nel vendere rettili tarantole scorpioni cioè sono proprio fatti apposta ti arriva in questa maniera guarda ti faccio vedere come unboxing tarantola tarantola vi faccio vedere ve le spediscono così se non volete guardare rimpicciolite lo schermo un attimo ve le spediscono in questa maniera quindi non accade niente non si possono fare male lo vedete una volta che la comprate ve la impacchettano in questa roba qua è in pratica un barattolo rimpitissimo di tipo cotone e il ragno è tra virgolette ma non è schiacciato è tra virgolette dolcemente schiacciato in mezzo ma non si fa male se no vedete c'è uno strato di cotone sopra e il ragno è schiacciato in mezzo diciamo ma ovviamente nella maniera più sicura possibile per il ragno ripeto sono siti che lo fanno di lavoro e come vedete sta bene edz tutto qua quindi i siti che le spediscono quindi lo fanno in questo modo io non ho mai sentito di casi in cui arrivino morte o con le zampe rotte però ovviamente può accadere tranquillamente se compri da che ne so vendotarantole.org e con la foto di mio nonno mentre zappa la vigna ecco in quel caso magari il venditore non è così serio se però è un venditore molto serio in un sito apposito dovrebbe essere sicura come cosa comunque occhio a prendere qualcosa che sia legale in Italia occhio perché non so la legalità di certe specie piuttosto che di altre eccetera c'era scritto altro? mi avete detto di leggere altro? per gli aeroporti non ti so dire niente sinceramente comunque l'altro metodo ne ho parlato molto con una ragazza su Facebook sono in un gruppo di funko pop e una ragazza sono in tanti gruppi di funko pop tipo in tutti quelli italiani e una ragazza ha messo il suo funko pop vicino a una teca dove c'è una tarantola e allora io sono impazzito e le ho cominciato a fare domande e ho scoperto ad esempio che qualche settimana fa tipo due settimane fa tre in una zona nel nord Italia o forse nel centro Italia comunque tipo 4-5 ore da Genova per quello che non ci sono andato c'è stata una delle mostre internazionali di tarantole più grosse e importanti e lì si potevano tranquillamente comprare quindi l'altro consiglio che ti posso dare è se puoi comprala a una fiera perché lì sei sicuro comprala a una fiera lo guarderò in test live l'ultimo questa è una fiera ci si vede ciao uu perché è la cosa più sicura si sa quanto hai preso il test dell'otto ancora no ancora è ma passerà almeno una settimana o due sono lenti a correggerli 888888 PS come funziona il song request please è un tanto che non lo attiviamo ora non è attivo gatto se lo riattivo poi te lo dico grazie grazie per i dieci mesi grazie mille per la sub grazie per riavermi scelto con Prime e ancora due mesi e sei a un anno quindi grazie di cuore ma soprattutto mi sa che tu intendevi quella cosa che fa partire la canzone in automatico quando doni è una cosa chiedilo lo fa sempre false costa però quindi occhio perché costa è un servizio a pagamento mi sembra costi 3 euro ho dovuto mettere 3 euro perché sennò lo farebbero tutti costantemente però non so il comando che devi usare dentro la donazione parlane con forse forse te lo dice non ho una canzone con questo lo stemma viola io vado se lo mi vado guarderò in pasta ok tranquillo statemi bene ci si vede buonanotte anche a te grazie per i bits e tranquillo che tanto leggo 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 tutto gangsta diddo con la foto del cane il mio vecchio account ask i feels no ragazzi non non scrivete non fate niente perché non è attivo non lo uso non lo uso se mi dovete chiedere qualcosa o parlare lo sapete instagram rispondo sempre tranquilli quindi scrivetemi su instagram despacito but i'm cos'è sta roba eeeh eeeh you feel me telling me but now you put it on got the only kid how to turn it on the way you never love me and the other what's I wanna hear baby take it slow go away go away oh tu eres elibari yo soy el metal me voy a secando y voy a manoplar solo cumple solo se acelera el pulso oh yeah yeah ya me sta cruzando master little man tu come mi senti non va di piegna qua e tu che tu ma lo finitura puro si è spazzito che non ha spiato tu hai la testa spazzito se la chi ti dica cosa sta all'orito per anche si è spazzito allora non faccio mai reaction però questa volta davvero ho dovuto fare un'eccezione perché è bellissimo grazie lucian degas l grazie di cuore è stato fantastico grazie è stato bellissimo grazie mille è stato fantastico grazie i rape come pochi i rape as fuck è stato bellissimo grazie casunato un autismo al colosseo dito starò con una persona che non conoscete family reddit lenoir le grandi investigazioni did the family games presents lenoir si ma lo avete scoperto proprio 10 secondi tanto quindi cioè non c'è voluto niente quindi ragazzi voi che avete risposto alla domanda sul bonus rischi io ho scritto che è stato di un bonus ad un lavoratore che si assume rischi maggiori io ho scritto che si tratta di roba sulle banche è stata letteralmente la mia faccia dead inside proprio morto dentro esattamente esattamente questa la salvo grazie mille grazie Ricky ho finito le idee allora posto roba ok ho l'ansia però vedete dilettante guardalo come vorrebbe vorrebbe essere un membro del cast vorrebbe ma non ce la farà bisogna essere speciali per essere membri del cast ricordo ragazzi che finora il cast è sempre solo io Claudia Carlo e Salvatore finora il cast siamo sempre noi quattro ancora la nuova season con i nuovi personaggi deve ancora aprirsi quindi ancora per quello c'è tempo magari a Roma si aprirà con il nuovo magari potrebbe essere un nuovo membro del cast in effetti non ci ho pensato vedremo allarme weeaboo Ice Channel a parte uno cosa vuol dire e due questa volta no questo è troppo questo è veramente troppo ok è troppo bello lo spam lo spam è che si crea è troppo bello è troppo bello il ddv con il ditino e la porta ddv e il dito è troppo bello troppo grazie ragazzi è fantastico gli spam che fate voi siete sono sempre i migliori no save for work quindi andiamo corriamo ai ripari facts veramente me le state chiamando stavolta e me le state davvero chiamando weeab's out porta ddv point right door subito weeab's out subito non ci casco al robot basta oggi ho avuto la seconda prova di inglese bene un disastro basta dire solo che gente brava con il first decisamente brava in inglese appena hanno potuto sono usciti piangendo ad un certo punto ero tentata di scrivere come risposta tutto 8 anzi 8 ddv eravamo due classi 45 persone che hanno impiegato 6 ore senza capire niente della prova come fa una prova d'inglese ad essere difficile è inglese come fa una prova d'inglese non c'è cosa più facile nel mondo che l'inglese come fa a essere no a parte gli scherzi che cazzo di prova era che poi che cos'è la seconda prova d'inglese non ho assolutamente idea di che cosa sia si Antonio con calma ma si ma con calma non ho assolutamente idea di perché io so che le seconde prove sono matematica per per lo scientifico una prova magari applicativa credo per gli tecnici quella roba lì un progetto per l'artistico e la versione per il letterario lì il classico quello dove c'è il greco quella roba lì che cazzo è l'inglese che scuola è turistico non è letterario vabbè non mi veniva il termine ah il linguistico esiste cazzo il linguistico a linguistico la seconda prova è in genere una comprensione in una delle tre lingue a linguistico la seconda prova è in genere una comprensione in una delle sì ma mi ero completamente dimenticato che c'è il linguistico ora chissà perché ero convintissimo che il linguistico fosse una università non un liceo mi ero completamente sballato i piani di studio ok alla fine tra l'altro mo' farla via lo scritch senza che abbia dei problemi la seconda prova per me dovrebbe essere scrivere e girare un lungometraggio e guai uscirà qualcosa di altamente come ricezione volevo fare ancora una prova tutto qua comunque mi ero completamente scordato mi sembrava comunque dai cos'è perché è difficile la prova inglese cioè basta che sia l'inglese fored la seconda prova per me dovrebbe essere scrivere e girare un lungometraggio uscirà qualcosa di altamente attistico manca una lettera c'è scritto attistico potrebbe essere art o au cioè è scritto solo attistico comunque mi spiace lisa che sia andata male comunque boh cioè basta sapere l'inglese fored cioè cosa ci vuole fai la prova l'inglese basta sapere l'inglese mi spiace però però mi spiace che non sia andata bene però tranquilla che non è quella che ti fotte la maturità intera stai tranquillo non è una sola prova massimiliano non rubarmi le macchine esatto beccati sto veliero guarda che il veliero ho fatto malissimo ez grazie araldo il veliero sempre nei nostri cuori ragazzi abbiamo quasi finito comincio col dire che ho la fortuna di passare le giornate per lo più felici non ho mai sofferto di depressione e la mia famiglia l'adoro il motivo per cui ti stimo è come riesci a far sentire gli altri meglio e a far passare alla tua family un'ora in cui dimenticare la tristezza nonostante io non provi in prima persona queste sensazioni comunque l'importante è venire quanto sono divertente oggi è tangibile spero di non aver divagato non so bravo scrivere no invece hai scritto cioè è molto molto chiaro hai scritto molto chiaramente quello che volevi dire e ti ringrazio di cuore è molto bello vedere che anche un post positivo come dire conferma l'ambiente di positività che cerco di creare all'interno delle live tutto qui non è che l'ambiente di positività non si respira solo per chi ha bisogno di positività ma anche chi un po' già ne ha di per sé è una cosa molto bella quindi grazie mille e mi sono perso il nome siamo fa fatto siete in 200 attivi su reddit e 750 iscritti al sub io io non ho io ogni giorno che passa ho sempre meno parole siete incredibili comunque lolix loilix grazie oh no oh no oh no oh no oh no apro un po' le natiche in che senso non sono solito a mostrarmi così ma ciò a farvi sapere che ti seguo da anni su youtube non mi hai mai fatto allontanare nemmeno nel periodo buio lull e questo solo perché mi sei simpatico e mi fai ridere come un mona ora purtroppo come già detto non seguo molto le live le guardo comunque sul canale su youtube per motivi di tempistica ma sapete tutti che ci sono e vi osservo detto ciò non cambiare resta autista come sempre io continuo a supportarti nell'ombra diventando meno seri sai che tu hai la lingua bianca io ce la verdognola e una notte ho sognato che facevamo una gara di schifo ma hai vinto tu inoltre nuate ha l'accento sulla u non sulla a a nuat si ma è difficile ricordarmelo nuat è difficile ci provo a ricordarmelo ma è difficile comunque nuat grazie e ah sono le iniziali del tuo nuat non ho un account twitch nuat ci sta giustamente e ora non ho un account reddit ci sta giustamente nuat grazie mille per seguirci anche se in ritardo anche se dopo lui lui osserva monca s grazie mille grazie mille per osservarci ddw anche se in delay anche se in past live grazie mille grazie mille a me è pensato di mettere su real babbo tipo le magliette del ddw no se le voglio mettere in venita delle magliette ancora ma è una cosa a cui devo stare dietro per bene e in queste ultime settimane ho avuto molti cazzi per la testa negli ultimi mesi anzi in verità abbastanza è da davvero da una settimana circa che mi vedete è questa settimana in poi che mi avete da quando sono tornato dopo il mio da quando sono tornato dopo quella quella pausa gigante che ho fatto ecco da quando sono tornato che mi sento felice proprio della vita in generale quindi magari da adesso mi ci riesco a mettere ma tutti anche i mesi scorsi anche quando mi sentivo felice ora mi sono reso conto che c'era qualcosina che non andava ma non me ne rendevo conto adesso per ora almeno per ora mi sento bene quindi adesso potrei mettermici un po' di più sotto tanti cazzi kpride giustamente yes i am growing stronger yes yes i am growing very strong chara che cazzo fai detto chiaramente cosa giocarsi la maturità parte 2 ok vediamo gli ultimi due post senti io l'inglese lo so e quella gente ma chara ma che cazzo era quel post no a parte i scherzi chara please fabio 2.0 ti prego chara ti prego chara senti io l'inglese lo so e quella gente anche il problema è stato ma basta che sei l'inglese fored è stato che sia la comprensione si capiva ma le domande neanche la prof le domande neanche la prof sapeva cosa rispondere la scuola è un istituto tecnico commerciale con indirizzo linguistico ok grazie per la spiegazione e se non lo sapeva fare neanche la prof anche lei diglielo basta che studi l'inglese fored facile rap got ma basta no basta adesso si tutti che gridano ok comunque l'importante è venire ma allora io ho la finestra aperta per una volta invece che leggere primamente le cose le leggo di base così a voce anche non alta magari però normale per una volta che non le leggo prima per controllare che cosa sto per dire comunque l'importante sbam così così come 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 studenti vedo traccia muro inglese ah c'è la foto vediamo quanto era difficile questa prova che cosa mi ha copiato che paura gno 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 traccia muro inglese con la prova di liceo linguistico vediamo dai we are in a farm there are 50 cows how many didn't no 28 chickens how many didn't easy come 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 allora vediamo questa era questa era ovviamente non la posso vedere tutta perché dura 6 ore avete detto avete mi sembra detto voi questa era la seconda prova allora no ok vediamo un po' questa famosa prova difficile intanto già ai miei tempi non si poteva barare già è facile perché avete il qr code basta che scansionate il qr code ci sono le soluzioni già bravi ai miei tempi non era così facile ai miei tempi a scuola ci si andava con la carriola who is behind the wheel we are in a farm who is behind the wheel una cosa self driving cars allora è un allora già si capisce che è un testo sulle macchine che si guidano da sole chi c'è dietro il volante le auto che si guidano da sole offrono dei benefici enormi ma hanno anche un lato scuro e coloro che decidono le policy devono applicare in pratica il principio alle auto senza pilota deve essere praticamente applicato a quello di una carrozza senza cavallo che cosa intende dire con questo lo spiegherà meglio qui questo è chiaramente solo un paragone c'è un nuovo tipo di veicolo che sta prendendo piede le persone non sono sicure di cosa ne pensano è sicuro come andrà sul mercato cambierà davvero il modo in cui viaggiamo non mi sembra così difficile questa seconda prova ma è proprio difficile ok spero che più si vada avanti più sia difficile vediamo le domande che cos'è qual è il punto di vista dello scrittore dell'articolo sugli aspetti positivi su aspetti positivi delle macchine che si guidano basta leggere e si capisce come fanno gli avi vabbè lo spiega nel testo cosa sono come possono gli avi influenzare la privacy e la libertà dei passeggeri basta leggere il titolo non era quello non era quello il mio non era quello il mio eh certo non era quello il mio eh certo esame di stato secondaria superiore esame di stato di istruzione secondaria superiore ma non capisco che è questa roba how many vedi how many chinese immigration didn't sono sempre cose che dico io the protagonist of the passage from cazzo ishiguro persino nelle tracce di esame persino nelle tracce di esame whips out of my fucking view out persino nelle tracce di esame whips out subito di dovù di tino porta e adesso ragazzi è giunta l'ora è giunta l'ora ragazzi è giunta l'ora un attimo è giunta l'ora intanto di questo perché so che vi manca e poi è giunta l'ora esatto ragazzi di dark souls quindi andiamo andiamo a finire quindi anno lordo che è facile 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 andiamo si vola si vola ad anno lordo easy easy game easy life si va che noia questo